Praticamente hai chiesto come priorità lo sfoltimento della Rosa o ho capito male? Sì, priorità importante perché siamo veramente tanti soprattutto davanti e quindi è difficile lavorare ma mi spiace anche per i ragazzi perché poi quando organizzi un allenamento al di là della domenica, del sabato in cui tre giocano, tre vanno in panchina e quattro vanno in tribuna e quindi la gestione diventa difficile e diciamo che è difficile anche la gestione di un allenamento perché quando tu fai due squadre contrapposte quattro inevitabilmente attaccanti stanno fuori quindi così è difficile